Con il Presidente parlo tutti i giorni e stasera ha parlato con me, ha parlato la squadra. Giustamente ha detto le parole importanti e sono d'accordo perché comunque non sono prestazioni da Juventus. Questa è una sfida difficile che si sta complicando e da qui bisogna uscirne fuori. La decisione è stata presa da domani quando rientriamo rimaniamo in ritiro fino alla partita col Torino perché un primo tempo giocato così credo che sia una cosa inaccettabile da parte di tutti rispetto alla società e rispetto ai tifosi quindi da domani bisogna essere tutti insieme, ricopriamo energie, facciamo squadra e cerchiamo di ripartire con il Torino. Il calendario è questo e quindi bisogna giocare. Anche dispiace comunque domenica, sabato non avevo giocato a Milano, ha fatto la partita contro il Benfica, contro il Maccabi all'andata e quindi era anche riposato. Però detto questo non è questione di Maria o altre, è questione che abbiamo fatto una partita di singoli e non di squadra soprattutto nel primo tempo. Per quanto riguarda i giocatori che seguono o non seguono, intanto domani quando rientreremo stando lì vedremo chi sono quelli disponibili soprattutto per avere un atteggiamento diverso che è la cosa che conta. Quindi tutti insieme bisogna uscirne e fare una squadra perché altrimenti un giorno fa bene uno, un giorno fa bene l'altro e su questo bisogna assolutamente lavorare. Il sentimento è che sono molto deluso perché in questo momento qui la delusione è il sentimento più grosso perché è normale che sia così perché non puoi giocare un primo tempo come abbiamo giocato oggi, soprattutto una partita che ci teneva aperta la possibilità di andare a Lisbona e giocarsi la possibilità di passare il turno. Questo è quello che conta. Ma soprattutto giocare da squadra, cosa che abbiamo fatto un pezzettino, un quarto ora è meglio il secondo tempo, ma non basta.